Attimi di tensione per Luca Abete e la sua truppa pollena Trocchia Napoli. L'inviato di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto molte segnalazioni, è andato di persona presso un distributore di GPL che riempie bombole a occhio. Una pratica non solo vietata per legge, ma anche estremamente pericolosa, perché può provocare una forte esplosione. La situazione è degenerata quando un uomo, avvisato della presenza del TG satirico, è arrivato in auto tentando prima di investire il cameraman, poi prendendo di mira Abete. Insulti, spintoni e un microfono rotto, questo è il bilancio dell'aggressione, con l'inviato che ha dovuto dileguarsi per evitare il peggio. Le immagini saranno trasmesse nella puntata di Striscia la notizia di stasera, canale 5, ore 20 e 35. Grazie. 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 Grazie.